10 giugno, notizie per una nuova Milano. Oggi ci sono quattro notizie che secondo me offrono degli spunti interessanti per il futuro di Milano. La prima notizia è quella che in realtà è di un paio di giorni fa, che sono stati presentati progetti per il quartiere San Siro e oggi lo riporta la Repubblica in prima pagina, Repubblica di Milano, ricorda insieme a questi progetti anche il fatto che i residenti sono per la difesa dello stadio. Non entro nel discorso dello stadio, ma sono interessanti sicuramente i progetti che prevedono una zip line di collegamento tra il terzo anello dello stadio e altre zone circostanti in modo da far vivere in sostanza la parte vicina allo stadio anche oltre le partite. Poi oltre al centro commerciale altre ipotesi, è molto interessante come il piano sia quello di trasformare sempre di più San Siro nel quartiere dello sport e del verde, che è già così, però probabilmente potrebbe essere molto più valorizzato. In generale questa è una questione che già aveva sollevato Boeri del fatto come il futuro di Milano potrebbe andare verso una valorizzazione delle sue aree. In fondo Milano, soprattutto nella sua cintura esterna, che erano gli antichi corpi santi, è fatta di borghi, di paesini che poi sono stati progressivamente inglobati. Alcuni hanno tenuto una grande identità come Lambrate, come D'Ergano, altri un po' l'hanno persa, però probabilmente anche vedendo quello che è un po' la tendenza internazionale, quella del riconoscere un'identità territoriale circoscritta al luogo, come succede ad esempio, pensiamo solo ai quartieri di Londra, Chelsea, appartenenza addirittura, ci sono squadre di calcio differenziate, Berlino ha i suoi quartieri con dei municipi con grandi autonomie, Kreuzberg, Friedrichsagen, se sapete quando chiedete a un berlinese di dove sia, non ti risponde, io sono di Berlino, ma ti risponde proprio del quartiere. E io credo che sia affascinante, questa sia una delle sfide di Milano, sia di pensare in grande, cioè di diventare sempre di più una città che guarda le altre città internazionali quasi più che al proprio paese, e al tempo stesso che nel suo interno valorizzi molto di più le singole identità e specificità, cioè pensiamo alla grande identità di Lambrate, più in ottica di arte contemporanea ad esempio, oppure la Bovisa come luogo post-industriale di continua innovazione, lo stesso San Siro come quartiere dello sport, cioè c'è da lavorare. Io credo che però occorra uno sforzo che non possa essere semplicemente derivante da innovazioni urbanistiche, ma debba far parte di una strategia tutto tondo, di valorizzazione dell'identità, attraverso anche forme di identificazione e di celebrazione di quelle che sono le caratteristiche distintive, oltre che, come detto, un piano strategico, cioè che attraverso la valorizzazione dell'eccellenza delle singole parti si possa arricchire tutta la città. Comunque sulla Repubblica sono riportati, ci sono anche dei render, sperando che non rimangano solo dei render, perché purtroppo a volte a Milano, devo dire, questo è un po' d'autocritica milanese, spesso il cambiamento di Milano è stato più una sfida, colpi di render affascinanti che sono stati condivisi sui social, ma che spesso sono rimasti sulla carta, o meglio, sui social. Altra notizia di oggi è una notizia che citano anche questo caso tutti i giornali, che da un lato fa piacere, dall'altro anche no. Nel senso, la notizia è che il Politecnico appare nelle classifiche internazionali anche quest'anno come la prima università italiana. Questo è il titolo, poi se si va a vedere, si vede qual è la posizione, sapete qual è la posizione del Politecnico fra le università del mondo, è 137esima. E tra l'altro, nelle prime 150, purtroppo, non ci sono università italiane. E io dico, il fatto che celebriamo questa notizia come grande successo fa capire come stiamo, a mio avviso, precipitando in questo circolo vizioso di bassa autostima che genera il fatto che poi ci esaltiamo per risultati che sono obiettivamente scadenti. Cioè, la verità è che, noi ricordiamoci, siamo il paese che ha generato le università. Siamo stati il modello di formazione per tutte le classi dirigenti europei fino all'Ottocento. Quindi, siamo al luogo dove, comunque, c'è il liceo classico che è ancora un punto di riferimento internazionale. Ecco, io credo che bisogna avere il coraggio di ammettere che sia un fallimento, che la nostra prima università, che tra l'altro è una grandiosa università, sia al centotrentasettesimo posto. Cioè, noi siamo una delle, comunque, delle sette, otto economie più importanti per ora del mondo. È inaccettabile che la nostra prima università sia al centotrentasettesimo posto. E io credo che bisogna aprire una discussione. Ci si sta parlando della scuola, apertura, non apertura, però in realtà è tutto il nostro percorso formativo che probabilmente ha perso un treno. Cioè, se devo dare un mio parere personale, che io sono un amante della formazione, della scuola, dell'istruzione e soprattutto della tradizione classica italiana, io credo che la grande colpa nel settore dell'istruzione, così come in altri settori, sia stato quello del imitare, cercare di imitare, venire dietro dei modelli di successo che però non ci appartengono, in questo caso modelli anglosassoni, che non appartengono a nostra cultura. Ecco, io ho vissuto tanti anni all'estero e devo dire, quando mi dicevano di spiegare in breve le caratteristiche degli italiani, io dicevo, noi italiani abbiamo questa caratteristica. O inventiamo qualcosa, o creiamo qualcosa, e allora diventiamo i più bravi del mondo, ma se ci mettiamo a imitare gli altri, siamo i peggiori del mondo. Cioè, io vedevo, ad esempio, ho vissuto in Germania, vedevo che i tedeschi sono proprio bravi nel prendere idee degli altri e farle diventare ancora migliori. È proprio la loro caratteristica. Mentre invece non c'è un caso di idea nata all'estero che in Italia si sia alimentato in modo ancora migliore. Invece ci sono tantissimi casi nella nostra storia, in ogni settore, cultura, filosofia, piuttosto che arti e anche l'economia, dove quando l'Italia ha creato qualcosa di nuovo, allora lì tutto il mondo si è messo sull'attenti. Quindi io credo che dobbiamo recuperare questa nostra caratteristica, dovrebbe essere proprio il nostro mantra. Cioè, noi dovremmo essere il paese dell'innovazione, ma innovazione reale. cioè quella del dire se qualcosa è stata fatta all'estero, proviamo a innovare, a fare qualcosa di meglio, prendendo l'estero però non come qualcosa di inarrivabile, ma come qualcosa di superabile, però cercando qualcosa di nostro. Quindi sì all'internazionalità come arena in cui operare, mettersi alla prova, anche prendere gli schiaffi quando non siamo all'altezza, senza complessi di inferiorità che poi diventano revancismi un po' patetici, tipo siamo stati più bravi a gestire questo piuttosto che l'altro, ma invece proprio con umiltà a dire, ok, non siamo bravi, nell'istruzione obiettivamente siamo molto indietro, vogliamo scalare le classifiche internazionali, ma cerchiamo di farlo con un modello che sia forte, che mira a dire, possiamo rappresentare un'alternativa? Oggi se un ragazzo, immaginiamo un ragazzo di altri paesi, ad esempio dell'Asia, voglia decidere di andare a studiare all'estero, il modello di riferimento è quell'anglosassone. Possiamo provare a proporre un modello che sia alternativo in modo che un ragazzo in gamba del Giappone, piuttosto che della Cina, dica io vado lì perché è un tipo di percorso più umanistico, più creativo, non lo so, in questo momento poi ognuno ha le sue idee, però cercando di proporlo, perché se andiamo a rimorchio noi non abbiamo mai combinato niente di buono e io personalmente non sono molto felice che un'università così gloriosa come il Politecnico sia solo al 137esimo posto al mondo. Terza notizia, che poi è una notizia, spesso è l'intervista, un'ultima breve intervista di Sala su Rai 1, il nostro sindaco, che tra le righe un po' fa autocritica, cioè nel senso dice, siccome adesso il tema è si ricandida o non si ricandida, che è insieme a che idea può avere lui della Milano, visto che comunque ha governato cinque anni, con luce e ombre, non è così semplice prendere le distanze da quello che ha fatto, però è quello che un po' fa, nel senso che lui riconosce che probabilmente ha sottostimato questa necessità di cambiamento e dice che occorre, se si dovesse ricandidare, occorre sicuramente fare un cambiamento più radicale a Milano, che è quello che sta ripetendo da alcune settimane. Non si è ancora ben capito, cioè ci sono ancora bozze, io sinceramente non ho ancora trovato in che cosa consiste questo suo cambiamento radicale, se non il suo continuo a insistere sul concetto di mobilità e di ambientalismo, per anche questo sono ancora sulla carta, cioè non c'è, a parte l'acciclabile controversa che è inaugurato nel pezzo di Corso Buenos Aires, Corso Venezia, non ho ancora visto una visione reale, strategica, e quindi sono molto, personalmente molto curioso di vederla. Se mi si dovesse dire in che cosa dovrebbe essere il fondamento di questo cambiamento radicale, io credo che sia quello per cui ci stiamo battendo come Milano città-stato, che è quello del dire dotare Milano di tutti i poteri tipici delle grandi città del mondo. Se si vede la produzione di pil per area, Milano è l'unica delle grandi aree, purtroppo tra l'altro sta perdendo posizioni, è l'unica che non è formalmente una città-stato, o comunque non ha poteri di autonomia, che città-stato, che è quel termine che mette insieme le città-contea, le città-cantone della Svizzera, le città-stato del mondo tedesco, le città-regione di altri paesi, hanno la caratteristica di interagire direttamente con lo Stato centrale, cioè non è che sono dentro un altro involucro, come Milano è dentro l'involucro della regione Lombardia, che ha 11 milioni di abitanti ed è di fatto un altro centralismo nel centralismo, ma può interagire quindi direttamente con lo Stato, ha suoi poteri, sue risorse e soprattutto può fare una politica internazionale, nel senso che può accedere ai fondi europei, può promuoversi a livello internazionale, tutto quello che è consentito in Italia alle regioni. Quindi questa secondo me dovrebbe essere la premessa di un cambiamento radicale, perché se no è solo di facciata, cioè sono cose di maquillage, perché dico di maquillage? Perché il Comune di Milano, il sindaco del Comune di Milano, oggi ha gli stessi poteri di quegli altri 8 mila sindaci e questi sono poteri praticamente inesistenti, nel senso che qualunque decisione strutturale dovrà per forza passare, sia dal lato delle risorse che dal lato delle autorizzazioni, in organi statali e organi regionali. Quindi il dire ci vuole un cambiamento radicale o fai un cambiamento radicale che può darti le armi per poter fare degli interventi strutturali o se no significa una semplice richiesta, come la posso fare anch'io, dicendo mi auguro che Milano possa riuscire a convincere altre realtà di volta in volta fare qualcosa di importante. Sempre a proposito di questo segnalo come altra notizia e in questo caso un articolo di Federico Cartelli che è pubblicato su un blog recentissimo che è nuova costituente del Prof. Lottieri che sostanzialmente dice che per rinnovare il Paese la verità è che bisogna ripartire da un federalismo di comuni. Intendendo federalismo di comuni non significa che tutte le città diventerebbero autonome, piccole o grandi, ma significa ribaltare quello che è l'infrastruttura di uno Stato che obiettivamente non funziona, che è basata comunque su una sioma di centralismo. Il centralismo significa che anche le regioni, per non parlare dei comuni, in realtà hanno dei poteri che sono derivati dallo Stato. C'è sempre il governo centrale che stabilisce quello che la regione può o non può fare e soprattutto in ogni momento può toglierlo questo potere. Così come la modalità di trasferimento di risorse è totalmente inefficiente, nel senso che le regioni mandano tutto al governo centrale che poi li restituisce indietro, quindi invece di trattenerle direttamente sul territorio come tutti gli Stati che prevedono un certo decentramento. Però vi invito a leggere, che lo trovate sulla nuova costituente, questo articolo, perché fa vedere proprio la differenza tra decentramento e federalismo, soprattutto federalismo basato sull'autonomia dei municipi. Molto interessante perché sono due concetti molto diversi. Quindi io credo che da qui bisogna ripartire, avere il coraggio, si vede di ripartire, un esempio è la Svizzera, ma anche la stessa Germania, anche la stessa Russia, ci sono tanti paesi che prevedono autonomie territoriali che possono coincidere a volte nelle città e a volte invece su regioni più ampie. Quindi è un momento molto affascinante perché io credo che sia una grande opportunità sia il fatto di vedere che lo Stato ha manifestato di non funzionare a tutti i livelli, sia il fatto di essere comunque vittima oggi di una crisi che rischia di essere molto grave, una crisi economica molto grave, che però come tutte le crisi, senza dire la classica banalità della crisi come opportunità, però è indubbio che è una crisi che ci stiamo trascinando da decenni e che ora più che mai ci dà la possibilità del provare a riformare in maniera radicale, perché forse è più facile intervenire su quello che non va rispetto a quello che si pensa che più o meno stia andando. Per chiudere, a proposito di questo, ieri abbiamo fatto la prima riunione di Milano-Città-Stato per questo progetto che si chiama Rinasci Milano, che ha queste come finalità, queste che vi sto dicendo, cioè una rinascita più che una ripartenza, basata su un principio abbastanza elementare dal mio punto di vista, perché è vero quando dicono che guarda che là fuori non ci sono solo persone intelligenti, però al tempo stesso mi sento di poter dire che non ci sono solo persone cretine, quindi in un universo fatto sia di persone stupide, intelligenti, preparate e meno preparate, perché dobbiamo creare e accontentarci di uno Stato e di un'organizzazione che si basa sul fatto che le persone sono stupide? Perché in questo caso vanno a discapito delle persone intelligenti. Io credo che invece una società evoluta sia una società a misura dei territori eccellenti, delle aree che funzionano, delle imprese che vanno bene, delle persone capaci e penso che se si struttura in questo modo questo tipo di organizzazione, poi ne guadagnino anche quelli che non solo sono meno capaci, ma di fronte a delle modalità di emulazioni che sono visibili, soprattutto una società che ti spinge in quella direzione, sono portati ognuno a suo modo a essere più capace, perché io credo, è vero che il mondo è fatto di persone che possono avere dei talenti differenti, però io credo che in ogni momento ogni persona deve essere portata a sviluppare i suoi talenti e non è scritto da nessuna parte che chi ne ha di più possa acquisire più gratificazione e felicità rispetto a chi ne ha di meno, perché entrambi la vera gratificazione è quella del riuscire a fare sempre un po' di più nella loro vita, sempre qualcosa di meglio e soprattutto vivere in una società dove chi fa meglio riesce a produrre effetti positivi per tutti quanti.